Di famiglia, Famiglian Shuzhenji Breach, situato nella prefettura di Shiduoka, penisola di Izu, città di Izu, città di Shuzhenji. Shuzhenji Onsen si trova nelle vicinanze. Ha una profonda relazione con la nascita dello shogunato di Kamakura. Shuzhenji Onsen, Yogashima Onsen, Yogano Onsen e Shimoda Onsen sono le ambientazioni di The Dancing Girl of Izu. Scritto dal premio Nobel per la letteratura Yasunai Kawabata. Questo ristorante del gruppo Skylar è ragionevole e delizioso. L'ora di pranzo è dall'onedì al sabato fino alle 17. Il pranzo giornaliero costa 659 che in tasse incluse vi viene fornito con ricariche gratuite di zumba cinese. Nessun suggerimento richiesto. Anche il drink bar è economico. Ogni uccendrinche 10 tipi di drink, sugli e bevande a nascone. Ci sono anche sette prezzi ragionevoli disponibili da lunedì al sabato dopo le 17. Il Monte Fuji si trova al bocchino tra le prefetture di Shizuoka e Kamanashi. La penisola di Izu si trova nella prefettura di Shizuoka. Anche il Fuji visto dalla penisola di Izu è molto bello. Anche le bottiglie di Shou e di sante cinese sono molto economiche. C'è anche un piano alcolico ogni tanto.